Insieme a Suor Tarcisa, che nella libreria Paoline si occupa particolarmente dei DVD, ecco, vorrei presentare cinque proposte appena arrivate, complete di CD, naturalmente, per i ragazzi, per i più giovani, ragazzini delle elementari, delle medie e non solo, e quindi abbiamo verso, dedicato naturalmente a Natale, verso Bethlehem, Natale ti mette le ali, viaggio a Bethlehem, anche oggi è Natale, noi figli dei Magi. Ecco, proposte interessanti, naturalmente, non tutte, solo e soltanto esclusivamente rivolte a Natale, ad esempio, noi figli dei Magi, è vero, Suor Tarcisa, può essere utilizzato anche in un altro periodo dell'anno, perché si parla di una band, di ragazzi che così vogliono suonare, agitati ed altro, e questi figli dei Magi, lasciamo il punto interrogativo su che cosa potrebbe essere, ma non necessariamente si può riferire solo e soltanto ai Magi dell'Epifania, appunto. Quindi, interessanti, Suor Tarcisa, queste proposte, complete di CD, con molte canzoni, o canzoni orecchiabili, canzoni carine, divertenti, evocative dello spirito natalizio, ma soprattutto proposte per stare insieme, per ripercorrere il mistero del Natale, viverlo e pregare cantando. Grazie.